Nel 1249 un figlio dei bolognesi viene catturato e poi verrà ucciso. Quindi è probabile praticamente che mettono a questo partaglio storico nel 20 maggio del 15. Bisapera aiutare, bisapera aiutare, bisapera aiutare, bisapera aiutare, bisapera aiutare, bisapera aiutare. Questo è il mio progetto qua qua, quello che vi è più premato, quindi spero che la donna. è un palazzo naturale del catapato saluta Adrani